Buonasera a tutti, sì un grande ospite anche perché comunque tu hai nominato la vittoria del Piacenza femminile purtroppo il nostro grande ospite non ha molto da festeggiare visto che parliamo della Copra Elior è con noi Maurizio Latelli appunto della squadra piacentina, ciao Maurizio Ciao, buonasera a tutti, buonasera Finita questa stagione con una bella battaglia comunque, portata a gara 5 comunque avete perso per due punti, comunque diciamo che l'annata di Piacenza è stata un'ottima annata Beh, un'annata straordinaria, è stato tutto un crescendo avevamo già un'ottima squadra senza l'inserimento di Simone, il nostro cubano da quando è entrato lui è stato veramente un crescendo la squadra è migliorata tantissimo, abbiamo disputato la Challenge Cup è stata l'unica squadra la nostra a vincere una Coppa Europea quest'anno quindi diciamo che cerchiamo di trovare delle cose confortanti per questa sconfitta della finale Scudetto ma dobbiamo essere contenti Senti, a un certo punto in questa stagione l'unico forse neonegativo che possiamo andare a trovare è quello del non raggiungimento della Final Four di Coppa Italia a un certo punto si era anche vociferato un cambio d'allenatore poi la società ha dato comunque fiducia a Luca Monti è stata una scelta corretta comunque da parte della società per vedere poi come è finita la stagione In realtà è stata quella di Modena, contro Modena è stato uno dei pochissimi passi falsi che abbiamo fatto in quest'annata e il non raggiungimento di quell'obiettivo ha posto delle domande sia alla società ma anche all'interno della squadra e dando fiducia all'allenatore noi lavoravamo bene, la realtà era quella lì però quel passo falso ha dato un input probabilmente negativo il pensare di non poter raggiungere poi quelli successivi la società ha fatto molto bene a confermare la fiducia all'allenatore perché poi probabilmente è stato, c'è voluto quel momento di crisi quel momento per farci maturare anche come gruppo e poi di conseguenza come squadra Senti, oggi siete andati a prendere gli onori dal primo cittadino di Piacenza dal sindaco che comunque vi ha premato per la bellissima stagione soprattutto per la vittoria della Challenge Cup Molinaroli non si è risparmiato a dire che comunque Piacenza è una squadra premiata anche per il fair play però a parte questa la mia domanda è effettivamente una fase finale con così tanti cartellini rossi io non me la ricordo tu che anche hai qualche anno comunque sulle spalle di Serie A a memoria ti ricordi una serie così? Indubbiamente è stata una finale dove c'è stato un po' di tutto ed è bello anche che sia questa è bello che tra le tifoserie ci sia sfottò è bello che ci sia quell'attenzione proprio tipica delle finali però il Presidente ha anche ragione adesso dopo aver perso la finale parlare di queste cose sembra un po' come per trovare delle giustificazioni la realtà è che lì abbiamo trovato un ambiente ostile forse era giusto così se l'avessimo giocata a Piacenza secondo me il nostro pubblico non è come quello di Trento ma io non voglio dire che quello di Trento sia sbagliato è che probabilmente una quinta partita così probabilmente giocata in un campo neutro con 2000 spettatori di Piacenza e 2000 di Trento sarebbe stato a darmi pari ovviamente le regole non le faccio io non le facciamo noi sono queste qui e ce le teniamo così parliamo un po' della persona tua di Maurizio Latelli che comunque sono 20 anni che sei in Serie A più o meno dal 96 se non mi ricordo male meno però uno ho fatto 10 anni ecco tu quest'anno però ricoprivi il ruolo di secondo libero in realtà però tu sei un palleggiatore cioè sei nato come palleggiatore io sì sono nato come palleggiatore poi dopo alcuni anni a 26 anni ho cambiato ho fatto il libero un allenatore russo Colchin che poi è stato allenatore della nazionale russa mi ha spostato di ruolo e da qualche anno quando ero a Verona ho fatto così Bruno Bagnoli diciamo a fine campionato mi ha proposto per il campionato successivo questo doppio ruolo ero pieno di entusiasmo perché ritornare a fare il palleggiatore a me è una cosa che mi diverte molto quindi in effetti il ruolo del libero mi aveva un po' diciamo levato un po' di questo entusiasmo qui a Piacenza inizialmente dovevo fare anche il palleggiatore perché De Cecco aveva bisogno di fare un intervento a un legamento sia alla mano infatti quello era il dubbio dell'inizio stagione di Piacenza senza De Cecco sì 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 invece poi lui ha tenuto botta e quindi mi sono ritrovato a fare il secondo libero però sono stato veramente molto contento di far parte di questa squadra perché quando mi giravo intorno al campo vedevo Fei, Papi, Zlatano, Simone, Tencati De Cecco tutti i grandi campioni quindi essere in mezzo a loro era veramente per me una cosa grandissima diciamo che un po' di scudetti ce li avevate in campo anche se poi non l'avete vinto però tra tutti quelli che giocavano insomma qualcuno c'era beh ti assicuro che non si è mai sazi c'è gente scudettatissima gente che ha fatto 11 finali come Samuele Papi è veramente un fenomeno sempre affamati sempre affamati di finali sempre affamati di vittorie quindi è quello che li ha fatti diventare così grandi ecco tu li hai vissuti proprio dal vivo tutto l'anno ma appunto due persone come Zlatanov e Papi che comunque sono più vicine ai 40 che ai 30 e ci mettono ancora tanta passione per questo sport è forse quello che li riesce a tenere così in forma e mandare avanti e giocare 5 gare così dopo una stagione comunque che vi ha visto anche affrontare trasferte lontane per la Challenge Cup beh alla base di tutto è indubbiamente la passione poi considera che sia il capitano Zlatio sia Samuele hanno saltato pochissime partite penso che Papi hanno provato a fargli fare una volta turn over poi è stato forzato è dovuto rientrare in campo quindi voglio dire lui non ha saltato neanche un match è stato veramente è un campionato strepitoso arrivare poi alla quinta gara dopo aver fatto delle semifinali così forti contro Macerata abbiamo vinto le tre partite che bisognava vincere e quella è tanta energia ma soprattutto tanto stress mentale abbiamo sprecato tanto però le partite in casa con Trento sono state devastanti abbiamo veramente espresso il massimo del gioco che potevamo esprimere la battuta è stata il fondamentale che ha fatto la differenza a Trento poi sappiamo benissimo che è molto difficile vincere loro sono veramente molto forti tanto di cappello sono molto forti lì poi secondo me c'era anche tanto la spinta del fatto di avere Jack in campo che comunque non avendo Raffaele come ruolo principale di palleggiatore titolare la mia più grossa preoccupazione non era il fatto del cambio del palleggiatore quindi a livello tecnico del palleggiatore io non avevo dubbi che Jack potesse disputare una buona gara per me era la mia più grossa paura che gli attaccanti si responsabilizzassero maggiormente e così è stato però vorrei dire al contrario di come pensano moltissimi giornalisti che se avessimo vinto non avremmo demeritato nel senso che non ha vinto secondo me la squadra in assoluto più forte ha vinto tanto la squadra che ha fatto 15 punti al quinto set quindi per me tra noi e loro non c'è stata grossa differenza anzi avremmo anche meritato di vincere questo scudetto poi loro sono stati più bravi tanto di cappello sì anche perché comunque a un certo punto eravate 12 a 11 per voi quindi diciamo che quando arrivi a quel punto magari c'è un momento in cui dici ce l'ho fatta perché sono avanti e poi dopo la pallavola è imprevedibile io ho provato a rivedere quelle fassi finali di gioco ma delle volte preferisco non pensarci sicuramente c'è stata di grossa mano l'incursione del personaggio delle Iene che in questi giorni insomma si è parlato solo di quello che tra l'altro dicevano che era amico di Latelli sì 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 a un certo punto pensavo fosse un mio amico quando io non l'avevo mai visto veramente è stato anzi mi aveva anche molto infastidito sinceramente la sua presenza mi aveva infastidito tanto è vero che ho cercato di non calcolarlo quando era accanto a me durante l'inno esatto anche perché dell'inno era proprio accanto a lui era un momento molto l'inno per un giocatore è un momento molto importante un momento pre-gara lì c'è la concentrazione cerchi di caricarti di motivarti maggiormente anche se una finale di scudetto ha poco da essere ancora alimentata a livello motivazionale però poi ho visto il video è stato veramente divertente senti visto comunque considerando tutta la tua esperienza di anni in Serie A come vedi la prossima stagione considerando tutto quello che si dice due squadre storiche come San Giustino e Vibo hanno chiuso ora si vocifera, anzi sembra quasi fatto il ritorno di Taranto con il presidente Buongiovanni oltretutto tu a Taranto ci hai giocato quindi conosci la piazza però diciamo che è sempre più difficile è chiaro che poi secondo me si arriverà sempre a trovare una soluzione però insomma anche il blocco delle retrocessioni non sembra aver dato tutta questa sicurezza ai club no ma soprattutto perché ci sono società come quella di Piacenza che vive di sponsorizzazioni ha un grosso main sponsor che è Lior questo gruppo francese però vive di tante altre sponsorizzazioni quindi ogni anno il presidente Molinaroli deve ripercorrere tutta la strada dei vari sponsor cercare di capire di anno in anno qual è il budget per fare un'eventuale squadra competitiva o meno io auguro a Piacenza di farla il massimo possibile competitiva perché ha dimostrato di essere una piazza veramente che merita il palcoscenico sia nazionale quello della scuola internazionale perché l'anno prossimo c'è la Champions League poi ci sarà questa dietriba della Super Coppa quella penso sia stato un errore di valutazione della palcoscenica regolamente così dal 1995 partecipa la seconda classificata alla Coppa Italia però a quanto ho capito Piacenza si presenta quindi probabilmente sarà un triangolare adesso vedremo insomma senti velocemente l'ultima battuta il futuro di Latelli libero o palleggiatore? probabilmente libero palleggiatore allenatore quindi guadagnerò per tre ruoli penso sempre a Piacenza? no non credo ok